il mondo dello spettacolo è stato scosso dall'inaspettato addio di angelo madonia da ballando con le stelle il ballerino che ha danzato con federica pellegrini ha deciso di lasciare il programma suscitando un acceso dibattito tra fan e addetti ai lavori il suo sostituto sarà samuel peron un volto noto del programma federica pellegrini ha rilasciato dichiarazioni rivelatrici sul suo rapporto con madonia in un'intervista ha ammesso di aver faticato a trovare sintonia con il ballerino lasciando intendere che il feeling tra loro non fosse dei migliori anche commentato lo scontro tra madonia e selvaggia lucarelli dichiarando di non voler essere coinvolta in discussioni che non la riguardano sonia bruganelli legata sentimentalmente a madonia ha espresso il suo dispiacere per la situazione ha dichiarato di aver sentito il ballerino solo dopo la sua decisione di ritirarsi lasciando trasparire un certo malcontento per la sua permanenza nel programma il ritiro di madonia ha alimentato diverse speculazioni alcuni ritengono che la decisione possa essere stata influenzata dal recente scontro con selvaggia lucarelli mentre altri pensano che il rapporto difficile con federica pellegrini abbia giocato un ruolo cruciale in retroscena di questa vicenda rimangono avvolti nel mistero ma è evidente che la tensione tra i protagonisti abbia avuto un impatto significativo sullo svolgimento a Grazie a tutti.